eccomi qui amico che vi do i codici dei colori utilizzati per questo anello acquistati da cristalline magari potessi prendere tutto il negozio per tutte le meraviglie che ha e con questo video ci sentiamo alla prossima allora il codice delle perline miyuki 015 516 guardate che bel colore che è io lo trovo stupendo codice delica 011 db 0046 vi faccio vedere il colore più da vicino mi piace tantissimo codici di queste perline che io ho utilizzato per la prima volta oggi perché non le ho mai usate mi piacciono tanto e credo che li punti però usare sb 416 sb 416 non so se si vede bene qui non credo e questo è il colore vi faccio vedere l'anello da vicino spero che vi piace purtroppo non ho la bustina del colore dei svarocchi perché questi li avevo e non vi saprei dire che colore io l'ho messo di come decorazione però non vi saprei dire che il colore che è proprio per prenderlo da vicino ma se la trovo prometto che ve lo dico vi auguro buona serata di nuovo a presto